Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Can you hear the dream in the house? Il teaser di ieri, eccolo qua, lo avevamo già visto, ne abbiamo già parlato questa mattina ragazzi, teaser che ci mostrava un uncino. Beh ragazzi, sbronk! Questo qua è il teaser di oggi ragazzi e come vedete si vede chiaramente qualcosa che assomiglia ad un animale ragazzi. Non si capisce bene se sia un serpente, quindi tipo un cobra, o invece avendo quel becco. Non lo so ragazzi, qualcosa di particolare, ma la cosa che ci avevo preso nel video di questa mattina è PROT! Proprio questa immagine. Come vedete i due teaser uniti danno la forma di un teschio. Si può notare che sembrano due occhi, il naso e chissà che cosa vedremo nel teaser di domani, ma ragazzi voglio sapere i vostri commenti su quello che state vedendo. Cosa vi sembra secondo voi questo animale e cosa ne pensate del teaser? Io vi ringrazio per avere guardato questo video, mi raccomando, un bel pollicione, condividetelo con i vostri amici. Noi ci vediamo alle 17 in live. Ciao! E non parte mai l'altro.